5 4 3 2 1 destra 4 per sinistra 3 che diventa 2 gira per destra 2 10 sinistra per destra 3 per sinistra 3 80 vista alla ringhiera sinistra per destra 4 occhio ed ossia per subito sinistra 4 100 alla ringhiera destra 2 per sinistra 2 lungo al rail destra 3 meno per alla casa sinistra 2 30 destra 4 lungo vai al cartello stacca per destra 3 per subito tornante sinistro 3 per subito tornante sinistro in sinistra vista che apre destra 5 col dosso per sinistra 6 per sinistra 5 lungo sconnesso in uscita e dopo il bosco destra 3 del ristorante per sinistra 5 50 ai cartelli sinistra 5 per subito destra 3 non stringere 3 non stringere per sinistra 3 per destra 4 che diventa 3 4 che diventa 3 esci in sinistra 4 vai 80 destra 4 30 al muro destra 4 30 al muro sinistra 3 50 al secondo pupo stacca destra 2 stacca destra 2 30 sinistra 2 30 destra 3 meno esci che gira esci in sinistra 3 meno non taglia poco per destra 3 meno esci in sinistra 3 meno al re il tornante destro 30 destra 4 100 a vista sconnessi dopo il cartello sinistra 3 sinistra 3 che al pupo diventa destra 2 20 destra 4 lungo occhio al dosso per subito sinistra 2 10 sinistra 3 per destra 3 per tempi e sinistra 3 chiude per sinistra 3 10 destra 3 per sinistra 3 meno sporco sporco per destra per inversione sinistra stretta 3 50 destra 6 100 tornante destro stai largo 100 all'albero sinistra 2 lungo e chiude 2 lungo e chiude 30 destra 4 per sinistra 4 e esci in destra 5 tieni sinistra 50 sconnessi sinistra 4 sinistra 4 50 vista ai pupi destra 3 ai pupi destra 3 per sinistra 4 30 destra 5 per sinistra per destra 4 per la rail sinistra 4 lungo sacrifica per subito inversione sinistra 20 sinistra 5 per destra 5 sconnesso occhio sinistra 2 50 destra 4 lungo vai non tagliare 50 destra 4 tieni destra occhio non tagliare scivola 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 per sinistra vista ai pupi sinistra 4 per poi sinistra 3 per destra 3 non tagliare vai 50 vista al paletto sinistra 4 4 100 sconnesso sconnesso destra 4 non tagliare 150 secondo pupo destra 4 lungo non tagliare occhio che scivola occhio che scivola 50 50 sinistra 4 per destra 4 molto sconnesso 50 vista al pupo destra 4 non tagliare per sinistra 5 per sinistra 3 30 destra 4 che scivola 50 150 destra 5 non tagliare e al rail occhio sinistra 2 lunga sinistra 2 lunga che apre e scivola 50 destra 3 al secondo pupo al secondo rail diventa destra 2 30 alla zebra sinistra 2 per subito destra 3 50 sinistra 4 sinistra 4 due tempi che la laringhiera diventa destra 3 alla laringhiera destra 3 poi tieni sinistra occhio alla macchina destra per destra 4 per sinistra 3 per destra 4 lungo chiude chiude non tagliare per sinistra 2 due tempi al rail sinistra 2 che chiude chiude per destra per destra 4 per sinistra 4 meno meno scivola per destra 4 per sinistra 5 per sinistra 5 per 30 a cartello destra 2 che scivola 50 sconnessi che c'è sta puzza destra 5 per sinistra 2 tieni sinistra tutto sconnesso destra 5 per sinistra 5 lungo per destra vista del salto per destra vista tieni destra occhio al salto sporco è qua ricordati sempre 100 ai doppi cartelli sinistra 3 per al rail destra 2 20 destra 3 per sinistra 3 sporco per sinistra 4 30 al rail destra 2 per sinistra 3 lungo per destra 3 meno per sinistra 3 meno al rail destra 2 30 per sinistra 3 per sinistra 3 per sinistra 3 20 sinistra 4 30 occhio occhio destra 2 2 30 per sinistra 4 2 volte per destra tutto sconnesso per sinistra al rail sinistra 2 sinistra 2 cioè destra 2 scusa per sinistra 2 meno meno per sinistra per destra 4 vai per destra per sinistra 5 al rail occhio destra 2 che chiude molto per destra per sinistra per sinistra 3 lungo occhio allo sporto 50 a vista destra 4 che diventa 2 destra 4 che diventa 2 occhio al muro interno per subito sinistra 2 100 a vista inversione sinistra 30 destra 4 meno per sinistra 4 lungo 4 meno per sinistra lungo ok a Grazie per la visione!